L'entrata in guerra, l'annuncio della liberazione, il primo festival di Sanremo. Notizie d'avvenimenti portate al popolo italiano attraverso il suono gracchiante della radio. In occasione del 150esimo dell'unità, la città di Goito, in collaborazione con gli amici del Museo del territorio goitese, ospita l'esposizione Il villaggio deve avere la radio. Una raccolta di pezzi rari e talvolta unici di uno degli strumenti che ha cambiato il modo di vivere e di conoscere di una nazione. Di diversa fabbricazione, data ed origine, le radio in mostra sono state raccolte nel corso degli anni da Adriano Oliosi, collezionista che ha fatto di una sua personale esperienza la sua grande passione. Avevo una radio in casa a pile che funzionava per un certo periodo, dopo una volta le pille scariche si aspettavano dei mesi prima di avere un'altra ricarica. Così mi è rimasto dentro questo desiderio di avere una radio tutta mea. Ecco, passato dopo tanti anni, vado in un mercatino e trovo la radio. La radio ho visto che sembrava quello che avevo io, diciamo così, quella che avevo desideravo, averla tutta per me. E ho iniziato questa mia avventura, diciamo così, restaurando il mobile, facendo sistemare la parte elettrica. Dopodiché ho capito, ma potrei anche avere un'altra più bella, più vecchia magari. E da lì ho cominciato a interessarmi, a capire, a studiare, anche a verificare l'esistenza di altri tipi di radio. E ho iniziato questo percorso e man mano sono riuscito ad avere una collezione a più di un centinaio di pezzi. Oliosi ha portato presso l'ex convento benedettino gli esemplari della Seconda Guerra Mondiale, attraverso i quali i regimi fascista e nazista trasmettevano i loro proclami su onde medie. Ben più vasta è la sua collezione privata, che spaziando dagli anni 20 agli anni 50, conta anche numerosi pezzi americani di notevole pregio. La mostra si arricchisce di una ricostruzione della stazione telegrafica di Marconi, di un grammofono, un fonografo e un giradischi. Sono i primi strumenti di registrazione della voce, un fonografo dei primi del Novecento. Lì veniva registrata la voce su un rollo di cera, che girando in un senso registrava la voce e facendo girare nel senso contrario si sentiva la voce. Per quello è stato per il periodo lì, è stata una novità grandiosa. Il villaggio deve avere la radio, rimarrà allestita fino al 29 gennaio, aperte il sabato e la domenica e su prenotazione delle scolaresche anche durante la settimana. Grazie a tutti.